Welcome back! Oggi ritorna a grande richiesta lo spacchettamento su Fortnite perché abbiamo trovato la chest, la cassa delle carte! Vi ricordo che c'è una sfida e quindi delle regole ad ogni oggetto che troviamo che fa parte del nostro armadietto prendiamo un punto e poi ci sarà il punto bonus che potrà ribaltare o confermare il risultato Ok, questa cosa non l'avevo prevista E' arrivato il momento di vedere cosa contiene la nostra chest Piano, non rovinarla, Dio! Per me uscirà una luce dorata Vediamo Oh mio Dio, il panna zombie! Non me lo sarei mai, mai e poi mai aspettato una delle carte più rare di Fortnite Oh, come prima! Abbiamo iniziato col botto E all'interno ben sei pacchetti di carte Per noi questo lo leviamo, ci possiamo mettere un sacco di cose qua dentro Nice! Lo stesso tesoro No, questo è il mio tesoro Il mio tesoro È il mio, mio Vai col primo pacchetto Questo è buono Siccome seguiamo sempre i vostri consigli, stavolta niente forbici Chiudi gli occhi da pronta Ricordo che devo metterne uno da parte per il bonus da mimare Oh mio Dio Oh mio Dio Che teniamo? Questa Questa Apri gli occhi pure Uzzizzela la Non è andato affatto male, eh? No, skin tutte molto interessanti Peccato che tu non ne hai neanche una E questa E questa Sono adatto vicinissima a scioparlo almeno tre volte Sono vicino ma non poco Ma zero Guardate la mossa Se ci avete guardato Guardate la mossa Mentre per il bonus Una bottiglia che esplode Cos'è che impugni così? La sticky bomb Sticky bomb Sticky bomb La klinger E' stato il La klinger Il Mi ha fatto capire tutto Un po' da sound Ti prego ti avvengata Portami bene con questo pacchetto Soprattutto fammelo aprire Non si aprono così Ce l'ho fatta Tra me è già la vittoria Chiudi gli occhi Pegna migna sta ragazza Oh my godness Oh ma santa brigidina Seriously Ci provo E' un azzardo eh No Hai fatto anche tu Sia la klinger Che lei Già E' molto figo Lui è slash praticamente Bonus Pesce secco Eccolo qua Pesce secco Che è Ufficialmente La skin Più amata Di fortnite E a lei fa schifo Questo fa capire quanti problemi ha con I vostri Ma allora io non sopporto Non si chiamano neanche gambe Quelle cose tutte le curve E se volete rivedere un video di spacchettamento di porta Dovete superare il like del video precedente Tredicimila garantiti ne vogliamo Tirate un po' su Più Più su che è tipo che esce dalla visuale no? Senti il rumore E' stato molto soddisfacente è vero Quasi quanto quei pallini che schicchiolavano dentro le scapoli Una pistola di cacca Nooo No spoiler No spoiler Bla 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 No spoiler Un pacchetto mostruoso Oh la 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 Tre uomini Niente male Devo dire questo qui è un L'arbitrone Questa interessante Ho trovato lo school trooper Ma bonus Sei un motociclista Sei il tipo il casco che va in moto la skin No Sei su un quad Vidi un quad Neanche usa il turbo guarda Voglio vedere questo che lui avrei fatto tipo Ma già nell'altro video Si ma se fai così capisco che è diversa Ma capisci che è una donna no? Che è un uomo Andiamo avanti Chiudi gli occhi Ooooooo Cosa ha messo dai miei occhi Oh miseriaccia Ho trovato qualcosa che ha Sicuro Tutto bellissimo Devo concentrarmi su quello che ti devo mimare È impossibile Il fratello della mia che ho trovato Esatto Questo è veramente bellissimo Quindi 0 punti Non ho niente Non ho niente È vero Ah ah Allora Allora il ranger dell'amore di pietra È quella? Si Veramente un'intesa stupenda Pure il ranger dell'amore E lamentati del pacchetto Oh yeah baby Oh yeah baby guarda sono qui non sono a 200 km non credo che mi urli allora sarà molto difficile farti indovinare qualcosa scelgo lei apri e soffri un punto per sound garantito la zoe sto incerendo tutti la zoe è troppo easy sei una donna con le pelle lunghe dell'amore è un cerchio ha capito ha un cappello in testa ha i capelli rosa ed è sempre centro mamma mia ragazzi sempre centro quindi super sound due punti la prima piagetta chiudi gli occhi l'ha sventrato perché ti odio non mi servi non sei portante no mamma ma ma io pedimi in giro e in niño ti rimangono solo questa schifo e quando mai tentare la saga qua del Tablano dell'uccellone Dabmo a rende Ma cos'è che fare i capelli? Non lo so! Ma è schifo! Lui... Pipistrello! Era l'unico che potevo fare! Quale facevo? Questo? Certo, che cos'è? Uno che fissa l'altro! Ti propongo un affare, ci scambiamo un pacchetto Va bene, ti do questo Anzi, lo apro subito Non sento suoni Non sta neanche respirando Proviamo così Mi è dato un pacchetto che più schifoso non poteva essere Addirittura una doppiona nel pacchetto Oh mio dio Doppiona nel pacchetto! Buon ragazzo! Beh, devo dire che questa screen mi colpisce molto Perchè io non ho memoria di quando sia uscita 4 7 47 Quattro Sono i fuochi d'artificio Quattro fuochi... no Sette non è un numero, è uno o due volte Mi arrendo, basta! Ma che ero? 4 Luglio 4 Luglio 4 Luglio Fai cagare a fare le cose E come l'avresti fatto te? Non lo so, ma non mi può col problema perchè era tu Gennaio Gennaio, febbraio E' caldo Ma c'è un po' il tacchino Eh, esatto! Non batti anche i fuochi d'artificio Niente Zero! E adesso ha la possibilità di recuperare Non so se è il tuo, ma speriamo sia fortunato Chiudi gli occhi Ma sai che ti dico? Mmm 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 What? Questa è la doppiona, ce l'hai già? Tiè? Si, è vero E non ho neanche questa skin Non ho niente Vorrei sapere chi ha questa skin Non lo so, è molto figa però Il robot Il brutto Il brutto Il brutto E' brutto E' brutto E' brutto E' brutto La torretta a portate L'hai fatta benissimo Grazie E la risposta è E' zotta E per finire Il pacchetto che consacrerà Sound come vincitore La vittoria finale Reale Totale L'ho strappato male Non è molto contenta Da come le poggia delicatamente Non è molto contenta Oddio La falco solare Ma c'è anche lei Si Hai sia lei con falco solare Non ci credo Non ci credo Una testa di hamburger Che fa la legna Per fare gli hamburger Sulla brush Comento bonus Cactus Così Sì Ma io ho anche lei Hai anche lei Ho anche lei Questa è un'ignominia Questo era un mio pacchetto Così qua C'è il tito Perlioner Ci si scrive Perlioner Sei l'ultimo pacchetto Riservami grandi sorprese Ti prego Dai Veloce Ale Che non ne posso più Un'ansia terrificante Dillo a me che devo fare due punti Cosa sta rimuginando Cosa sta rimuginando Raga No 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 E ci proverò E ci proverò con questa carta Sta staccando la telecamera Non ho niente di strano Hai preso la carta bonus Sì E perché ce ne hai sei di carte qua Perché io posso Non lo so neanche in realtà Si sono sbagliate Erano sette carte Ed erano loud Ma non solo Pure due che ha Due Sì Questo mi sono regalato da uno di voi Quindi vi amo ancora di più E lei me la sono presa E me la sono scelta Perch'è la mia luna di lebari Quindi se fai bene il bonus vinci Sì Tutu 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 C'è una cacca su un'arma Perché questo dovrebbe esser E' un'arma ma non ho capito Sì 40 40 colpi quindi non è la drum gun non lo è e quindi sii vista la tamburo signore e signori vista la tamburo regolosamente rosa pure ah la camera sta crollando nooo e visto che io ho vinto tu dovrei fare in questo momento un ballo di fortnite negli ultimi tempi mi c'hai sfancirlato il non si dice cosa per favore fammi la nuova versione di cavalli calponi prego posso fare la vertidab no non voglio che muori in un video capisci lasciate un bel po' di su sotto questo video inserite il codice creatore della inedizione di nello shop di portrait se avete tipato per me scrivete qua sotto nei commenti forza sound magari al prossimo amico eh forza sound